Abbiamo qui con noi il mister Anthony Laera. Anthony, buonasera. Al di là del risultato, grandissima partita da parte della tua squadra. Sì, abbiamo dimostrato, intanto buonasera a tutti, abbiamo dimostrato che possiamo giocare alla pari con loro. Peccato, perché ci sono stati degli episodi che hanno un po' cambiato l'esito, cioè l'andamento della partita, ma noi comunque abbiamo dimostrato di potercela giocare. È finito il primo tempo, ora andiamo a fare il secondo tempo a Erice e abbiamo il diritto, il dovere di provarci. Abbiamo già fatto bene in casa loro in passato, dobbiamo provarci ancora e dobbiamo essere positivi e provare a fare tutto il possibile per andare poi a gara tre. A proposito di episodi chiave, quanto ha inciso l'espulsione di Letizia in questa partita? Letizia la conosciamo, è una giocatrice forte, per noi importante. Forse il fallo poteva anche essere rosso, io non ho visto bene la dinamica, non posso giudicarlo, ma mi voglio soffermare sulla prova di tutta la squadra che ha comunque risposto bene all'assenza di Letizia e facendo anche una bella palla a mano. Purtroppo ancora una volta abbiamo sbagliato forse soppi tiri davanti al portiere, l'abbiamo pagato, ma ripeto, adesso dobbiamo subito concentrarci e provare ad andare a fare il secondo tempo in casa di Erice e cercare di portare tutto a gara tre. Ne approfitto per ringraziare il pubblico che era presente a Pontini, è stato bellissimo, palazzetto pieno, non hanno mollato mai insieme a noi. Grazie. Grazie a te. Buona serata.